Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur e all'analisi di quello che venderà. Per la classe del titano venderà il casco di Saint 14, un casco esotico da utilizzare con la sottoclasse del difensore pensato principalmente per il PvE. Il suo effetto sarà quello di accecare tutti i nemici che entreranno all'interno della bolla. E' certamente buono anche per il PvP, di fatto però in quella modalità i nemici tenderanno più comunemente a evitare direttamente la bolla, rendendone così la sua efficacia soltanto marginale. Nel PvE invece è un ottimo pezzo, sfruttabile tranquillamente sia nelle attività più semplici che in quelle più complesse come ad esempio i raid. Francamente ne consiglio l'acquisto. Per la classe del cacciatore venderà l'arachnide ATS 8, un casco esotico da utilizzare con la sottoclasse del pistolero e il cui effetto sarà quello di fornirci uno zoom con la pistola d'oro. Pezzo d'armatura abbastanza marginale e nemmeno tanto efficace, decisamente sconsigliato. Infine per la classe dello stregone venderà l'ariete, casco esotico e semplicemente uno dei migliori pezzi d'armatura per questa classe. Il suo effetto sarà quello di fornirci più armatura, quindi più vita, sia nel PvE che nel PvP e senza dubbio un must have. Poi l'arma esotica di questa settimana sarà l'oltremondo, un fucile di precisione che quando ucciderà con un colpo preciso potrà generare un'esplosione di luce che che cercherà i nemici circostanti. Molto interessante come arma, di fatto però non tanto efficace. Nel gramma storico di questa settimana sarà poi per l'arma pesante e infine i due pacchetti d'arma saranno per il Monte Carlo con il decoro super spia e per il verità con il decoro prototipo. Dunque ragazzi per quanto riguarda lo Xur di questa settimana è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!